Al via i lavori di potenziamento della rete di teleriscaldamento del centro storico di Forlì. Il cantiere di proprietà di ERA è situato in piazzale della Vittoria e collegherà la rete di teleriscaldamento dall'ITIS Marconi alla Greenhouse Energy accanto al campus universitario. La realizzazione della nuova rete nel valore di 1.100.000 euro ha come obiettivi la qualità dell'aria e la salvaguardia ambientale. Molti la usano questa parola ma forse non sanno tecnicamente cosa significa. Se ci può spiegare il teleriscaldamento. Sinteticamente il teleriscaldamento significa riscaldare a distanza. Quindi noi produciamo l'energia in un punto e la mandiamo attraverso delle condotte in un punto più distante. In questo caso la produciamo nella Energy House qui del campus e la distribuiremo con le condotte che adesso verranno posate. Questo è l'inizio dei lavori. Proprio per poter servire a EURTAL Campus anche tutta una serie di edifici che si trovano nella piazza Vittoria e in corso della Libertà. Come verrà utilizzato questo teleriscaldamento a Forlì e quali saranno anche i benefici per l'ambiente? Allora la produzione dell'energia a Forlì avviene attraverso una centrale di cogenerazione nella quale io produco simultaneamente sia calore che elettricità e poi posso anche produrre energia acqua refrigerata e quindi da qui il nome di trigenerazione. A Forlì diciamo che gli elementi saranno importanti da un punto di vista complessivo eviteremo circa 1.100 tonnellate equivalenti di petrolio eviteremo 4.000 tonnellate di CO2 oltre a circa 1.000 kg di NOx. Oggi parte il cantiere per il teleriscaldamento. Qual è l'importanza di questo progetto per la città di Forlì? L'importanza è fondamentale perché con questo ulteriore step di intervento andiamo ad interconnettere delle reti di teleriscaldamento già posate nel tessuto urbano di Forlì e permettiamo l'alimentazione dell'intero sistema del teleriscaldamento da un unico punto ovvero la Green Energy House del campus inaugurata a fine novembre dell'anno scorso. Questo naturalmente permetterà in termini ambientali in quanto l'aspetto dell'ambiente è quello precipuo appunto del lavoro del teleriscaldamento ovvero considerano forti abbattimenti per quanto riguarda le emissioni atmosferiche in termini di monossido di carbonio, di anidride carbonica scusate, di anidride solforosa e anche un risparmio stimato in oltre una tonnellata di tonnellate equivalenti di petrolio cioè per fare un esempio terra a terra stiamo parlando di oltre 40.000 alberi. Per quanto riguarda quindi questo intervento permetterà quindi dal punto di vista ambientale di avere una forte riduzione delle emissioni in quanto passeremo da un sistema di molteplici emissioni puntuali ad un'unica fonte di emissione naturalmente gestibile in maniera più ottimale in funzione della domanda e con un migliore controllo per quanto riguarda le emissioni stesse. Come si svilupperanno i lavori? I lavori si svilupperanno con delle tecniche di realizzazioni differenti in funzione delle zone ovvero alterneremo laddove la viabilità e il rilievo preliminare effettuato sulle infrastrutture esistenti interferenti con degli scavi a tecnica tradizionale quindi con la posa, con lo scavo in trincea come ormai i cittadini di Forlì sono abituati a vedere. Assessore, questi lavori interesseranno delle zone del centro molto trafficate. Come verrà gestita la viabilità per permettere la velocità dei lavori e continuare ovviamente il flusso di traffico cittadino? È evidente che un cantiere di queste dimensioni provocherà dei disagi alla circolazione. Noi con gli uffici tecnici del comune e gli uffici di ERA abbiamo ottenuto e pattuito una ridimensione del cantiere cioè di dimensioni molto più contenute e anche la temporalità. L'intervento è più impattante nel mese estivo, luglio-agosto e primi di settembre. La riapertura delle scuole, le viabilità speriamo abbia già ripreso una connotazione quasi normale. Cosa comporterà anche per la città questo lavoro e questa collaborazione con ERA? Beh, è evidente che per il centro storico sarà una piccola rivoluzione copernicana. Questo impianto di alto rendimento è coerente con il PAIR 2020, con il PAES, che sono i piani energetici e dell'ambiente della nostra regione e della nostra nazione e permetteranno una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti e quindi anche dei costi in un futuro prossimo. Quindi direi che questo prezzo da pagare ne è ampiamente ripagato. Grazie a tutti.